Video ricetta dei biscotti danesi allo zenzero Ingredienti 250 g di burro, 250 g di zucchero, 150 g di miele, 600 g di farina 00, 250 g di mandorle, 1 cucchiaio di cannella, 2 cucchiai di zenzero, 2 cucchiai di chiodi di garofano, un cucchiaino di lievito per dolci. Mettere nel mixer il burro in pezzi assieme allo zucchero e montarli, fino ad ottenere una crema perfettamente liscia e chiara. Aggiungere a questo composto il miele e poi le spezie, ovvero la cannella, i chiodi di garofano, lo zenzero in polvere ed infine anche la farina di mandorle. Montare tutti gli ingredienti per qualche minuto fino ad ottenere un composto omogeneo. Aggiungere ora sia la farina che il lievito per dolci e lavorare nuovamente il tutto per alcuni minuti fino ad ottenere un composto omogeneo e liscio. Trasferire l'impasto preparato sul piano di lavoro infarinato e compattarlo con le mani formando un cilindro del diametro di circa 7-8 cm. Avvolgere l'impasto nella pellicola da cucina stringendo bene le estremità e metterlo a riposare per una notte in frigorifero. Riprendere l'impasto il giorno successivo, togliere la pellicola e tagliarlo a fette spesse circa 5 mm. Distribuire infine i biscotti su una teglia rivestita di carta forno e cuocerli per circa 8-10 minuti in forno preriscaldato a 200 gradi.